Io sono Peter Lake. Da dove venite, Peter Lake? Da una barca. Una barca? Sì, non ho conosciuto i miei genitori. La barca si è arenata a Brooklyn. Così mi hanno detto. Allora voi rubate? Sì, mi capita di farlo ogni tanto. Ma non è sempre stato così. Io volevo fare il meccanico. Sono molto portato per aggiustare le cose e andarci proprio dentro. Come le casse forti? Purtroppo è andata a finire così. Ma ultimamente c'è qualche divergenza con un vecchio capo. Non sarà facile risolvere controversie nel vostro ambito di lavoro. È una bella sfida. Qual è la cosa più bella che avete rubato? Comincio a credere di non averla ancora rubata. Che gran seduttore siete.